Ciao! Ehi, hai scelto bene, Gregoriano! È molto graziosa questa qua, eh? Sì, lei è straordinaria. Eh sì, riesci a credere che sono passati 15 anni! Ai Dios! Quanti meravigliosi ricordi di quei giorni! Sì, sì, tanti meravigliosi, diciamo, privati. Bei ricordi. Insomma, non hai detto la tua fidanzata di noi due, ah? Ah, no, direi di no. Io non credo che mi sia venuto in mente, non che volessi tenerla all'oscuro, solo che non sia mai... Già, non che non sia... Insomma, è stato fantastico, è stato davvero... Ecco, per me è stato, è stato... E tu sei stata così servizievole. Non ti preoccupes, baby, il tuo segreto resta con me. D'accordo.